Ehi, chi ha detto che c'è un caso da risolvere? Ci pensa l'investigatore Wilde. Va bene, ma basta. Allora, per quanto riguarda il caso... Ho capito, ma basta adesso. Sì, va bene. Adesso, però... BASTA! Ma io non voglio vedere il caso! Io proprio non lo so! Cosa è vigente questo microfono? Milipopi Brown... Milipopi Brown mi ha detto che... Deve salvare i dinosauri. Quindi... Ah, aspetta. Ciao, ciao. No! io voglio avere un giorno di ferie il mio capello e i miei occhiali